Grazie. 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 Gara chiusa nel primo tempo, nel secondo tempo siete calati, la Turis ha preso il solito gol che rovina un po' la festa. Ma sai, un gol magari siamo arrabbiati per questo, però ho un grande riscontro, secondo me abbiamo fatto un primo tempo a dir poco eccezionale sotto il profilo tecnico, tattico, mentale, soprattutto l'intensità, abbiamo giocato a 200 all'ora con grande qualità, io devo essere contento per quello che i ragazzi hanno dato in campo. Mercoledì c'è la Coppa, domenica lo stiamare, come si affrontano questi due match dal punto di vista mentale? No, per adesso pensiamo una partita alla volta, da domani pomeriggi inizio a pensare al match prossimo, però in questo momento ci godiamo questa vittoria importante che ci permette di lavorare con grande serenità. È tornato Longobardi, sembra di nuovo l'attaccante devastante di quando era a Torre del Greco, quando era l'anno scorso a Cosenza. Ma il presidente Moxedano ha costruito un gruppo importante e Longobardi era uno di questi, sicuramente oggi ci ha dato qualcosa di importante. Vabbè, quello fa parte del calcio perché comunque ci sono anche gli avversari, abbiamo fatto un'ottima partita, la difesa non ha concesso praticamente niente. il centrocampo ha tenuto bene, avanti abbiamo fatto bene, è stato un peccato sì, però meno male abbiamo fatto un gol in più e ci siamo portati questi tre punti a casa meritatissimi.